E' stato presentato a Palazzo Broletto lunedì mattina il volume Centro Fiera del Garda, nascita e sviluppo di un polo fieristico per la Lombardia orientale. Questo libro, arricchito da immagini e documenti inediti, è dedicato alla storia del polo fieristico di Montichiari e alle sue prospettive future. Siamo orgogliosi di questo volume che è stato realizzato da Roberto Bonzi e da Virginio Tisi. Roberto Bonzi è un nostro detto stampa e Virginio Tisi è uno storico di Montichiari. E' un libro che ripercorre, come diceva lei, la storia del Centro Fiera. E' la cultura mercantale che ha Montichiari, che è una cultura secolare. Infatti il primo documento che testimonia la Fiera di Montichiari è un documento del 1647. che comunque il mercato di Montichiari si svolgeva anche nei secoli antecedenti. E' un libro molto bello, scorrevole da leggere, dove si sono riportati i documenti storici. Ci sono ricomentate fotografie molto belle che ripercorrono la storia recente del territorio di Montichiari e lo sviluppo che ha avuto il Centro Fiera negli anni. Il Centro Fiera nella collocazione attuale è del 1984 e da allora ha avuto notevoli progressi anche a livello di dimensioni. Il primo fautore del Centro Fiera a Montichiari è stato l'onorevole Mario Pedini, che noi ringraziamo. E poi dobbiamo ringraziare tutti i sindaci che si sono susseguiti negli anni, partendo dal sindaco Tosoni, dal sindaco Gigliolo Badilini, dal sindaco Scalvini, dal sindaco Rosa e dal sindaco Zanola. Quindi noi siamo felicissimi di questo libro, potrebbe essere il primo libro di altre edizioni che vorremmo fare più avanti e ripercorre anche, oltre che alla storia, gli ultimi sviluppi del Centro Fiera, quindi con le collaborazioni che abbiamo fatto con ProBrixia, con la rete Fare e con la Fiera di Bergamo e di Cremona.